ben trovati in questo video parleremo dell'analisi statica e dinamica degli open interest del future nelle precedenti lezioni abbiamo visto che il future viene utilizzato dagli operatori principalmente come servo sciocco e principalmente come strumento di protezione di opzioni in difficoltà l'entrata sul mercato di future serve a proteggere una posizione in opzione andata etm e per cavalcare conseguentemente il movimento fortemente direzionale che ne esce fuori sulla base di ciò che abbiamo detto sinora è evidente che un movimento del prezzo associato ad un aumento di open interest del future possa essere indice di un segnale di forza di un trend al contrario un movimento seguito da una riduzione dei contratti future indica una situazione di incertezza che necessita di ulteriori conferme in sostanza affinché un movimento sia significativo gli open interest del future devono sempre seguire la direzione del trend principale nell'ipotesi di un trend rialzista gli open interest del future dovrebbero aumentare nelle fasi di rialzo mentre durante le correzioni dovrebbero diminuire allo stesso modo in un trend ribassista gli open interest del future dovrebbero aumentare progressivamente il ricorso ai future è ancora più richiesto durante l'avvenuta rottura di importanti livelli di supporto o di resistenza o livelli di prezzo chiave poiché scattano le cosiddette azioni di ricopertura dei venditori a difesa degli strike e del premio l'analisi degli open interest del future risulta anche particolarmente efficace nel permetterci di individuare non soltanto segnali di forza ma anche eventuali segnali di debolezza di un trend in atto infatti uno dei primi segnali di debolezza ad esempio un eventuale trend rialzista o ribassista scatterà nel momento in cui osserveremo una diminuzione dei contratti future mentre i prezzi faranno massimi oppure nel caso di rialzi oppure minimi nel caso di ribassi relativi di prezzo in pratica se i future non seguono adeguatamente l'andamento dei prezzi questo qui ciò significherà una minor partecipazione degli operatori all'evoluzione del trend attuale e ci dovrà mettere sull'allerta nel caso in cui avessimo posizione a mercato inoltre è altrettanto evidente che l'inversione di un trend ad esempio il passaggio da un trend rialzista ad uno ribassista non potrà avvenire senza un adeguato supporto di contratti future per evitare di incorrere in falsi segnali sarà bene infatti verificare che l'eventuale rottura della trend line di supporto di un trend rialzista con la conseguente inversione e partenza di un movimento ribassista avvenga assolutamente con una diminuzione dei contratti future perché non sono più necessarie a coprire le call che erano andate in difficoltà in questo modo potremo evitare i frequentissimi falsi segnali che ci vengono dati dalla semplice osservazione dei grafici del prezzo grazie per l'attenzione al prossimo video